Si è svolta la conferenza stampa di presentazione della 25esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza. Teggiano si è presto a festeggiare le sue nozze d'argento con Alla Tavola della Principessa Costanza, la Kermess organizzata dalla Proloco Teggiano del Presidente Biagio Matera, che ogni anno, l'11, il 12 e il 13 agosto, attira nella città d'arte del Vallo di Diano decine di migliaia di visitatori. È una spettacolare macchina del tempo che coinvolge tutta la comunità di Deggiano, capace di riportare indietro di oltre 500 anni le lancette degli orologi. Percorrendo le antiche stradine si resta ammirati dalle fedeli ricostruzioni di ambientazioni e dei vecchi mestieri che fanno da contorno al centro storico. E poi il corteo storico con oltre 500 figuranti, sbandieratori e trombonieri, musiche antiche di menestrelli e musici, saltimbanchi e giocolieri. E ancora il banco di cambio e le taverne con le gustosissime pietanze medievali.